Mi sembra un segnale di attenzione verso una comunità, la comunità di Cutro e di Crotone che si sono fatti carico in questi giorni di un peso davvero molto difficile da sopportare. Forse andava fatto prima perché sarebbe stato molto bello per il Paese, molto bello per quella che io chiamo l'identità nazionale del nostro Paese non casualmente dico identità nazionale perché presumo che l'identità nazionale è di tutti. Poi per un governo di destra dovrebbe essere ancora più importante. L'idea del soccorso, del salvataggio in mare, l'idea di non consentire che nessuno perda la vita perché tra virgolette ha avuto la sfortuna di dover essere imbarcato su una barca di trafficanti di esseri umani che hanno tenuto un concontro a loro vita e un elemento di identità nazionale per il nostro Paese perché noi siamo un Paese di mare, siamo un Paese messo nel Mediterraneo e che l'immigrazione prima è stata protagonista nel mondo e poi da 30 anni è al centro dei flussi migratori. Ecco, per me sarebbe stato molto bello se fossero andati insieme il Presidente della Repubblica e la Presidente del Consiglio senza nulla togliere perché il Presidente della Repubblica per Costituzione rappresenta l'unità del Paese e tuttavia sarebbe stato molto bello dare un segnale veramente di grandissima coesione. Oggi è un etto importante e tuttavia tra virgolette sono passati molti giorni. Allora, oggi è il 9 marzo.